Riparte la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata a Torre del Greco e non mancano le lamentele dei cittadini. Da ieri lunedì 13 settembre è possibile ritirare i sacchetti all'Eco Point di Palazzo Lasalle o a quello dei Molini Marzoli. Per evitare assembramenti è disposto l'accesso alternato in ordine alfabetico secondo il calendario disposto dal Comune. Tanti cittadini in fila questa mattina ai Molini Marzoli. In molti hanno ribadito ai microfoni di TV City le carenze del servizio. So che hanno iniziato a distribuirle solo da questa settimana e non dal primo settembre come mi avevano detto la volta scorsa. Non saprei risponderele in merito poi al trattamento di questi rifiuti una volta depositati, questo non glielo so dire, anche se le voci non sono molto incoraggianti in proposito. La città è sporca o pulita? La città mi sembra sporchina in effetti, per usare un eufemismo diciamo, quindi si potrebbe fare meglio. Anche perché tutto questo vanifica poi l'impegno invece dei cittadini virtuosi? Certo, certo, certo. Teniamo conto che abbiamo anche da pagare una tariffa taria abbastanza salata. Abita in Via Cefaloni a Marti d'Africa, la funziona come ritiro delle differenziate, abbiamo i bidoni giù al palazzo, ogni condominio viene effettuata regolarmente. Ci sono dei punti un po' più abbandonati, non lo so perché, ci sarà qualche motivo però, però vedo che nelle zone più alte di Torre del Greco viene un po' più mantenuta pulita. Questo è quello che vedo, nelle zone più alte, determinate zone sono più pulite, determinate zone magari è pure qualche cittadino che magari non rispetta i giorni e non viene raccolta. Forse sarà questo. Questi kit, secondo lei, dovrebbero essere distribuiti più spesso? Ma sì, perché non ce la facciamo, sì. Questo sì. Stiamo, li compriamo, molte volte li compriamo ai supermercati perché... Non sono sufficienti. ...come si deve, non sono sufficienti. Secondo lei la città è sporca o pulita? Sporca. Molto sporca. Voi la vedete pulita? Io no. Dove siamo noi, diciamo, via di Libia funziona, però quando arrivano i camion, vanno a scaricare, miscino tutto. Anche il sindaco Borrillo fece, non so se è la vostra telecamera oppure la telecamera su, che vedete i camion miscino tutto. Anche le strade sono molto sporche? Tutto, tutto sporca. I spazzini sono anni e anni, sono i neri che puliscono le strade. C'è una città di 50 nere per una persona, magari quelle strade, poche strade. Ma altrimenti i spazzini voi li vedete, io non li vedo. Sono poche queste buste? Sì, queste sono tre buste fino a gennaio. Quante volte le dovrebbero distribuire in un anno? Ma secondo me una volta a mese adesso non distribui. Minimo, una volta a mese. Giustamente, per chi fa la raccolta differenziata sono poche. No, ma sì che sono poche. Queste devono lavorare fino a gennaio. Fino a gennaio sono quanti mesi sono. Sono parecchi mesi. La città è sporca o pulita? La città è sporca. Prima era più pulita. Prima quando? Il comune si fosse aperto tre giorni alla settimana, per mezza giornata. Ma se dipende da un comune, non sono tutti altri giorni. Grazie a tutti.